ragazzi oggi siamo in ispezione all'albergo al bion nuovo che si trova nella baia di paga siamo chilometri e chilometri in mezzo a una giungla non so quando arriviamo al viewpoint Samen Nangsi si fa la stessa strada stiamo viaggiando da un bel pezzo qua da mezz'ora buona siamo in mezzo alla giungla proprio non c'è niente a parte la strada e la vegetazione siamo arrivati ad un incrocio sempre in mezzo alla giungla per avere il viewpoint di qua vediamo le attrazioni che ci sono qua Samen Nangsi nove chilometri andiamo proseguiamo oggi il tempo è clemente 32 gradi sopportabili oh una macchina una macchina una moto però qua c'è vita qua allora c'è vita siamo arrivati a destinazione questo è questo l'albergo non è ancora uno skywalk non è ancora del tutto terminato mi sa stanno ancora lavorando comunque stanno facendo una cosa grande qua vedete tutto lo spazio che hanno questo è il parcheggio ragazzi qual è uno spicchio del paesaggio che andremo a visitare adesso ecco sono andato sullo skywalk sono 500 tutto scritto in russo no drone wheelchair not allowed in schiena non pensare anche in questo le regole no senza cani no run and jump no run and jump ok le regole le regole le hanno accolto con un welcome drink welcome drink e un tè aranciata aranciata e un tè 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 con una immancabile orchidea poi mai come arrivano non arrivano a rarvi un poche mese e adesso ci portano con la macchina ci soffra andiamo 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 non so e partiamo vai vai e noi siamo quando sono finito sono tutti i fiori questi salita a pendenze come lo zoncolan quando per un giro d'italia non so se riuscite a vedere ma siamo in pendenza più dello zoncolan sicuramente ecco arriviamo in cio vabbè se c'è qualcuno che ci aspetta non è ancora terminato al 100% ho messo già le condizionate qua da me il condizionate lì non mi vai ah bisogna mettere le scarpette le scarpette foto di rito fatte proseguiamo il nostro giro ecco il discorso è che se vieni qua in vacanza in questo albergo fuori non c'è niente qua vieni veramente per stare da solo per passare qualche giorno da solo diciamo con la moglie fidanzate amanti una roba una roba così cosa ti disturba nessuno anche perché esci non c'è niente quindi fare il bagno se ne parla neanche va su proprio messi il ristorante veramente bello veramente sta facendo un bel lavoro non è come il nacon quello di bangkok con il grattacero che sembra fatto con i lego con l'alto 314 metri qua 80 una sciocchezza quattro volte più basso quindi non mi fa impressione diciamo ecco quello l'hanno fatto impressione ti metto un attimino i brividi sì quello sì però per il resto si fa e si vede ragazzi è stato 12 ilio mi sembra che aveva scritto vai tu fare il bagno e piove sicuramente infatti stavolta piovuto fatto un'acqua ragazzi quasi indeciso se non venire poi visto il previsione che metteva un bello e infatti si sta mettendo al bello un attimino anzi forse è meglio così che fa non fa quel caldo che c'era ieri ma quanti ristoranti ci sono c'è un altro ristorante là sotto c'è un altro ristorante là sotto ce n'è uno che è quello lì e quell'altro in cima dovrebbe essere un ristorante anche lui tre, tre ristoranti al bello correzione quattro facciamo un altro quattro ristorante? quattro ristoranti? quattro ristoranti? un ristorante quattro ristorante? Sì, due restauranti e un caffè Ah, un caffè, andiamo a vedere un? Un, questo è un buffet Due? Un hotel All'altro hotel? Sì Ah, hotel, all'arri? Un boutique Ah, un altro albergo questo qua All'altro albergo, eh? Un altro albergo, qui iniziano a fare gli alberghi che qua Eh, buonanotte Dai ragazzi, volevo fare il giro Ci andiamo a vedere se riusciamo a mangiare qualcosa Se ci danno qualcosa da mangiare Mangiare? Duecento bar Per mangiare? Sì Buffet Duecento bar di buffet Vabbè, lo si può fare dai Duecento bar si può fare Ma è buonanotte Ma è buonanotte Qua lasciamo giù Il cover delle scarpe E andiamo a mangiare Andiamo? Nei cinquecento bar che paghi per venire qua C'hai duecento bar da usare O qua il caffè Oppure verso sopra c'è il buffet Qua c'è il caffè Il gelatini E no beer? No, eh? No, eh? No, eh? No beer, no No beer, no No beer, no No beer, no Ah, capito? No Vuoi usare tutto qua C'è il caffè, i cappuccini Gelati Gelati Ma bella idea, bella idea C'è il luogo Bello Con una vista spettacolare Mia moglie ha preso in simpatia Vai, vai in capa, eh Ci sono le solite russe Che si può aprire in mostra Vedete Adesso andiamo sopra Al ristorante Al buffet Vediamolo A parte le stiche lavorano Questo è invece il ristorante a buffet Buffet? 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 Ok, andiamo al buffet Che roba che hanno fatto, ragazzi Ti dà la sensazione di Spazi aperti Di pace A parte adesso che stanno facendo i lavori Fanno casino Ma Quando ho visto i lavori C'è un silenzio Bello Bello Suai, eh Mi piace E' bello E' bello E' bello Vedi la baia Da questo punto di vista Che non è male E' bello Stanno ancora lavorando Stanno ancora lavorando Altro che tre mesi qua Però C'erano più di tre mesi qua Ah, questo è buffet Ciao Buffet con vista sulla baia Che posto, ragazzi Mamma mia E qua c'è un po' di tutto Pasta e la carbonara Pasta e la carbonara Pasta e la carbonara Non ci posso credere Pasta e la carbonara Pasta e la carbonara Ragazzi, è pure la carbonara Veramente Questo I doodl Questi mi piacciono un casino I luni fritti E' nuova Immarcabili A forma di cuoricino Vedete? E' la zuppa di pombo Questa è una delle mie preferite Questo è il Genson No C'è il colore del Genson E' il nostro Risofritto Immancabile Qua frutta e verdura Frutta e verdura E salata E caronzini Questo io non lo mangio La zuppa Ha l'odore Piccantissimo La mia moglie Ha 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 guardate il fenomeno del sole qua e sopra di noi si vede speriamo c'è l'arcobaleno rotondo intorno al sole siamo mangiati qua vista maia questo è il mio piatto l'uovo in forma di cuore stupendo un po di carbonara i nido fritti due pocudori riso fritto carote ok non capito caromcin che a me non piaci con cuque sonomcin cuque buono caromcin malacabonara è tutta altra cosa buono carbonara buono carbonara pochino a venti buono non piace a venti capito buono che non si però la carbonara è un attimino meglio appena appena per finire vedete i bagni vista vista montagna tu vedi qua c'è la vista capitano grazie grazie grazie